Fai un po' di neve, ma meglio. Sì Se ci sono tanti in questo giorno? No. Ci sono i conti? Ci sono i conti? Siete. I conti che ci sono fatti di 1850. Poi ci sono i conti. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti